La storia di Joe D'Ambrosio, sopravvivere al braccio della morte Ho trascorso 22 anni nel braccio della morte di un penitenziario dell'Ohio senza aver fatto nulla Combatto contro la pena di morte perché è sbagliata e io sono l'esempio di quello che non dovrebbe accadere Ho trascorso gran parte della mia vita in carcere aspettando la morte pur essendo innocente E quello che è accaduto a me potrebbe accadere a chiunque Era un normale cittadino, senza problemi con la legge, un sergente dell'esercito Poi una persona mi accusa di omicidio di un uomo e sono finito nel braccio della morte Sono stato fortunato, un sacerdote si è occupato del mio caso, che si è riaperto e sono tornato libero Ma non si può tornare indietro dalla morte Più di un uomo e Waldron Grazie a tutti.